Ciao a tutti amici Nerazzurri Ciao ragazzi, ci siamo, ci siamo Melia di Milano, lo conoscete L'Inter sta tornando da Monza Dopo la manita dell'Upower Stadium Noi arriviamo diretti da lì quindi non dovrebbe mancare tantissimo Li attendiamo e poi ci rivediamo qui per capire bene cosa è successo Perché ogni volta ne succedono delle belle qui al Melia Vi ricordiamo www.ufocalcio.com Per magliette di calcio a un prezzo bassissimo Con il codice sconto Inter avrete un ulteriore 10% Trovate il link in descrizione Mi raccomando andate a farci un salto a tutti quanti Eccoli ragazzi, eccoli, ci siamo Mezzanotte è passata l'Inter e abbiamo andato al Melia dopo la trasferta vittoriosa di Monza Grande ciao a uno di noi Grande lauti Grande mister Grande mister Sì, ok, grazie Puoi giù la marcia? Grazie Andate a casa Andate a dormire Ciao Cristiano Ciao 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 Io c'ho la figurina e non c'ho buon dare Eh, se lo... Se lo troviamo... Non freddo, fassetto, fassetto E' della casa? Sì Ok, che cosa È un local brutto qua Grazie Grazie A tutti A qui siamo? Da qui? A qui? Sì Grazie Ciao Sì Sì Davanti o dietro? Ok Ok Grazie 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 La faccio io rocco La faccio io La faccio io con il mio strato Gira, 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 gira Gira Grazie Grazie La faccio io Sì 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 Mi la venga, mi la venga Sì La civile Ma io mi dico però Sì Sì Scusate Ok Mi sei? Mi posso? Posso? Posso fare una foto Allora Lì lo posso Vai Lì 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 Pullman che se ne va E piano piano giocatori che escono Ecco di Marco Marco Arnautovic Si tratta bene il ragazzo La Toro Martinez Con la Volvo nuova tra l'altro Volvo nuova per tutti Volvo nuova per tutti Volvo nuova per tutti Volvo nuova per tutti Oh Sono telefono in mare Non è il tuo face Varela come sempre a 400 all'ora Classico Nicolo Stefano Sensi Con in macchina qualcun altro Che non ho ben capito Chi fosse Stefano Evrae Dalla regia Eh no Quello è Stefano Evrae Eccolo Stefano Evrae Qui c'è Bucanana a sinistra Bucanana a sinistra E guida Eric Mkhitaryan Bentley Di Sanchez Questo lo conosciamo Bentley Eccolo qua Questo è bastoni Bucanana a sinistra Bistec Erbistecone Vediamolo 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 Eccolo qua Che stile ragazzi La musica lui aveva Questo non lo so Perché la targa è diversa dagli altri E udite udite Non è nessuno Cioè non è nessuno È un dirigente Questo è Farris Farris Secondo di Inzaghi Questo è il giocatore Vediamo chi Darmiano Matteo Darmiano Ciao Matteo E mi laudero Carlos Augusto Ragazzi Ecco chi mancava Ok Grazie Ciao 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 Davide Ciao Grazie Ciao Ciao Cristian Ragazzi Ve l'avevamo detto Ne sono successe Di ogni Michi Terenci dice di andare a dormire Adesso qua Fra attesi con Aslani Volvo nuove Volvo nuove Perché sono tutte nuove E abbiamo scoperto Quando partiranno per Riad Grazie a Tagliacarne Che ce l'ha detto Molto gentilmente Team manager dell'Inter E vabbè Il video ha parlato da solo Avete visto tutto quanto E di questo era il video Del ritorno dei ragazzi Da Monza Se vi è piaciuto Mettere la commenta Condividete e iscrivete Al nostro canale YouTube Attivate la campanella Per seguire tutte le nostre live Ragazzi Postate da tutti i nostri live Che trovate in descrizione Anche www.ufocalcio.com Per maglietti di calcio A prezzo bassissimo Tutte in descrizione Con il codice sconto inter Avrete anche un ulteriore 10% Noi ci vediamo Prossimo video Nella prossima live Forza Bello